Daniele Lavia, l'Italia vince la ventesima edizione del Memorial Wagner, un torneo importante, prestigioso, che precede eventi importanti della stagione estiva. Lo fate con due vittorie, l'ultima oggi contro la forte Polonia qui in casa. Che partite e che torneo è stato per te? Sicuramente è stato un torneo importante, difficile da affrontare perché è un torneo dove partecipano delle squadre forti, delle squadre importanti che puntano comunque sempre in alto. Quindi poterlo vincere, poter aver dimostrato anche a noi stessi che possiamo esserci anche a questo livello è bello. Abbiamo messo in pratica quello che abbiamo fatto per dieci giorni in Cavalese, quindi questa è una soddisfazione in più. Quindi ora sicuramente è bello poter festeggiare, ma poi da domani già subito focus per l'inizio dell'europeo. Cosa vi portate dietro di buono di questi tre giorni? Beh, secondo me abbiamo fatto tre partite importanti, tre partite di carattere. Abbiamo fatto vedere la nostra arma migliore che è il gruppo e la squadra. Abbiamo risposto sempre presente nei momenti di difficoltà e quindi questo è un qualcosa in più di miglioramento. È un qualcosa che abbiamo allenato ed è un qualcosa che abbiamo messo in pratica. Quindi vuol dire che l'abbiamo fatto bene. Seguite praticamente oggi il percorso di preparazione per gli europei per quest'Italia, a che punto credi sia quest'Italia? Beh, siamo pronti per affrontare al meglio l'europeo. Sicuramente questo torneo ci ha permesso di prendere un po' di ritmo partita dopo un mese, anzi 20 giorni di stop. Quindi ci è servito tanto. Alla luce di quanto visto anche in questi tre giorni, che europeo sarà? Sarà un europeo difficile e impegnativo come tutti gli europei. Sarà bello poter giocare in casa davanti ai nostri tifosi e aspettiamo numerosi al palazzetto per darci una carica maggiore.